Noi abbiamo firmato un accordo a dicembre, non ho motivo di pensare che non arrivino a queste aree, però per me significa andare dal notaio e firmare e avere 50 ettari. Se non sarà così per me l'accordo non si è chiuso. È ottimista il presidente Luca Zaia, ma vuole vedere i fatti e non solo aspettare le promesse. È da dicembre che è stato firmato l'accordo con il sindaco di Padova, Giordani, ma i 50 ettari per il nuovo ospedale non sono ancora nelle disponibilità della regione. Bisogna fare in fretta, dice, già troppo tempo, è stato buttato. Abbiamo firmato dicembre, quindi sono già passati sette mesi per il semplice trasferimento di aree che sembravano pronte il giorno dopo. E si sappia che abbiamo già perso sette mesi, quindi se arrivano entro l'estate, io ho qualche dubbio, però spero di sbagliarmi, vuol dire che poi potremo iniziare a partire con progettazioni o quant'altro. Vi ricordo che il business plan, il crono programma, prevede sette anni, otto anni per metterci le chiavi su questo ospedale. Più tempo perdiamo prima, più anni abbiamo dopo.